Benvenuti su Space. Questo mese seguiamo una missione che sta cercando di rispondere a uno degli interrogativi più difficili di questo settore. Esiste o no la vita su Marte? Ma prima diamo uno sguardo alle ultime notizie dall'universo. Missione prolungata fino a metà giugno per Samantha Cristoforetti e colleghi sulla Stazione Spaziale Internazionale dopo la perdita della capsula di rifornimento russa Progress. Il lancio del prossimo equipaggio è rinviato di due mesi. La compagnia francese Novespas ha testato il suo nuovo aereo per voli parabolici, l'A310-0G, un ex Airbus dell'aeronautica tedesca. Una quarantina di scienziati partiti da Bordeaux hanno compiuto esperimenti in assenza di gravità. A giugno i primi voli per il grande pubblico. Ecco adesso il nostro reportage. Atterrare su Marte e cominciare a cercare segni di vita, un'enorme sfida scientifica e tecnologica. Maurizio Capuano e Richard Bessudo fanno il conto alla rovescia per il lancio di una delle più grandi missioni al mondo sul pianeta rosso. Fanno parte del team di ExoMars, un progetto congiunto di ESA e di Roscosmos che intende cercare segni di vita su Marte. La prima astronave è quasi pronta. E questo è ExoMars 2016 che l'anno prossimo arriverà sul pianeta rosso. La parte bassa si metterà in orbita marziana, aprendo i suoi pannelli solari per prendere l'energia dal Sole. La parte superiore è il cosiddetto Lander che atterrerà direttamente sulla superficie marziana completamente autonoma. ExoMars è composto da due missioni che saranno lanciate rispettivamente nel 2016. e nel 2018. Qui a Alta Lessa Lenia Space, nel sud della Francia, la navicella spaziale è sottoposta a un rigoroso programma di test, visto che le finestre di lancio non sono frequenti. Per andare su Marte occorre ottenere le condizioni favorevoli di congiunzione tra Terra e Marte. Tenuto conto delle orbite dei due pianeti, le congiunzioni favorevoli si riproducono soltanto ogni 26 mesi. Una volta su Marte, l'astronave si separa in due parti. Il satellite resta in orbita e il Lander si dirige sulla superficie. L'ESA spera che questa capsula porterà a termine il primo atterraggio controllato europeo su Marte. Ha una forma che ricorda le navicelle spaziali, l'UFO, se vogliamo interpretarla in questa maniera qua, perché la forma aerodinamica dell'oggetto è la migliore per permettere un ingresso controllato nell'atmosfera marziana. ExoMars 2016 fornirà informazioni cruciali. Innanzitutto in che modo il Lander si posizionerà su Marte. Inoltre la missione permetterà all'orbiter di annusare, come un naso gigante, l'atmosfera di Marte alla ricerca di metano. Il gas potrebbe essere un indizio della possibile presenza di vita. Poi nel 2018 sarà lanciata la missione del rover ExoMars. ExoMars 2018 opera un nuovo capitolo dell'esplorazione su Marte. Per la prima volta ci occuperemo della terza dimensione, la profondità. È molto importante perché sotto la superficie, in profondità, abbiamo maggiori opportunità di trovare le prove di un'eventuale presenza della vita su Marte. L'invio di un veicolo per scavare su Marte è una cosa complicata. La parte più delicata è riuscire ad atterrare in modo sicuro. Poi il rover di ExoMars dovrà orientarsi con cautela. Qui vediamo il prototipo del rover scendere lungo la rampa. È più o meno quello che accadrà realmente su Marte. Il rover punterà ad atterrare a metà strada tra le colline e le basse pianure di Marte. Si metterà alla ricerca di acqua al di sotto della superficie. Scaverà fino a due metri di profondità. La velocità della perforazione è piuttosto bassa se la si paragona a quella che si usa per i lavori domestici. Si tratta soltanto di 50-60 W, ossia la potenza di una lampadina. È in grado di fare un grande lavoro, di forare e ottenere campioni. Il rover della NASA Curiosity aveva confermato che Marte era abitabile. Ora ExoMars cercherà microbi allo stato fossile e tracce di molecole organiche. I microbi sarebbero troppo piccoli da individuare. La dimensione è compresa tra uno e pochi micron, per cui servirebbe un enorme microscopio per poterli osservare, cosa che non abbiamo nella nostra missione. Ma i microbi possono aver influenzato la forma delle rocce nel corso del tempo. L'altro tipo di firma biologica sono le molecole organiche. Dobbiamo immaginarle come i mattoncini della Lego. Il rover di ExoMars potrebbe individuare tracce della presenza di vita su Marte nascoste sotto la superficie lontano da radiazioni dannose. È possibile? Lo abbiamo chiesto agli esperti di ExoMars. E' una domanda da 100 milioni di dollari, ma sono convinto che ci sia stata vita su Marte. Credo sia molto probabile che esista vita su Marte. Personalmente penso che non ci sia la vita su Marte, ma questa è una mia personale opinione. Penso che sia possibile che ci siano tracce di vita sotto la superficie. La risposta potrebbe arrivare entro la fine di questo decennio. Andiamo a Colonia per l'appuntamento con l'Accademia degli Astronauti. Andreas Mogensen ci spiega come ci si prepara psicologicamente. Cosa preoccupa maggiormente gli astronauti? Tutto, dalla cosa più grande alla più piccola. Nello spazio sentiamo diverse pressioni sulle spalle. Innanzitutto la tempistica, molto serrata. La maggior preoccupazione riguarda la capacità di compiere con successo gli esperimenti scientifici e tecnologici. Il secondo rischio è l'ambiente estremo. Se qualcosa va male, va davvero male. Passiamo molto tempo a memorizzare cosa dovremmo fare in caso di emergenza. Ma ci preoccupiamo anche di chiamare la famiglia e di parlare con gli amici. Tutti avranno alti e bassi durante questo lungo volo, ma non tutti allo stesso tempo. Credo che assieme ce la possiamo fare. È tutto per ora. Il mese prossimo ci occuperemo delle ultime tecnologie in materia di razzi. Grazie a tutti.